La notte europea dei ricercatori che farà tappa anche a Torre del Greco. Da chi è stato promosso questo evento e quali sono le finalità? Allora, precisamente la tappa vera si è svolta il 30 di settembre su tutto il territorio nazionale e anche estero. Ma in particolare quest'anno la comunità europea ci ha chiesto di fare eventi, quindi organizzare eventi anche dopo la notte dei ricercatori che cade sempre l'ultimo venerdì del mese di settembre. Quindi in virtù di questo io insieme, io che faccio parte del Consiglio nazionale delle ricerche, insieme con un gruppo di ricercatori di altri appartenenti anche ad altri enti del progetto STRIZ, abbiamo pensato di organizzare su Torre del Greco un evento particolare, diverso, ma soprattutto un evento che abbia la finalità propria della notte europea dei ricercatori. Dal giorno 3 al giorno 7 di questa settimana di ottobre si terrà dalle ore 16 alle ore 18 una caccia al tesoro, successivamente a questa caccia al tesoro che è dedicata a tre tipologie anche di utenze. Ci sono la caccia al tesoro col percorso per i bambini dai 7 ai 12 anni, un percorso verde dai 13 ai 18 anni e un percorso per gli adulti. Al termine di ogni giorno, quindi dal 3 al 7, potrete incontrare e giocare ancora con le nuvole, quindi con questi giovani imprenditori culturali che quindi vi porteranno nel loro mondo e successivamente incontrare ogni giorno della settimana un ricercatore del progetto STRIZ, questo progetto che è stato finanziato dalla comunità europea, che praticamente vi porteranno nel proprio mondo. Quindi è un progetto pensato proprio per tutti. Sì, assolutamente sì, soprattutto questo tipo di evento è stato davvero pensato per tutti, per tutte le fasce di età e quindi proprio per incentivare e soprattutto per iniziare a proprio far venire l'amore verso la conoscenza, verso la cultura, anche a quelli più piccoli, che poi sono quelli che ti danno la maggiore soddisfazione. Come si può partecipare a questa caccia al tesoro? Allora, la partecipazione è libera perché noi non possiamo anche per questioni di privacy avere prenotazioni e quant'altro, quindi vi dovete semplicemente recare alle ore 16 dal 3 al 7 presso il forum giovani che è localizzato a Palazzo Baronale. Ogni tappa la scopriranno momento per momento, quindi non saprete assolutamente come una vera caccia al tesoro. Mi piace l'idea di dire che siamo veramente una squadra e ci stiamo consolidando man mano nel tempo. Giuliana Esposito, anche la Stecca è coinvolta in questo progetto Street nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori. Ci sentiamo dei partner naturali perché condividiamo l'approccio, come dire, dal basso di questo progetto Street e soprattutto la mission di portare contenuti scientifici, innovazione, apportata delle aziende, dei cittadini, dei ragazzi. Condividiamo la mission culturale per cui siamo lieti che Stecca possa essere la casa che dà spazio a queste attività. Qui ci saranno proprio dei laboratori? Esattamente, tutta la settimana dal 3 al 7, Stecca ospiterà dalle 18 alle 20 e 30 delle attività dimostrative, delle attività giocate, dei piccoli laboratori che sono a coronamento della caccia al tesoro che si tiene invece tutti i pomeriggi nei esercizi commerciali del centro storico. E poi ci sarà un gran finale, il giorno 8, una giornata intera dedicata a dei laboratori interattivi. Grazie.